ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovissimo video in questo video tra l'altro c'è stata la canzone di Samara di Alina Martinez sottofondo sto in pigiama guardate qui sto giocando a minecraft le pore sali no 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 Sì Sì che andavo dentro Al trenino Siamo i tre Porcelli Eh noi trenino Mi ricordo Ora andiamo a fare una casa Siamo tre Porcelli Un, due, tre Arriva di mare Sassayakes Sassayakes Qui Sulla sabbia Ma io e il tuo amore No 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 Aspettate Allora Con questi Poi aspettate Questo Poi questo Poi questo Poi con questo No Di Alle Quie A La Quarga Quanta 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 Sassaymates Quanta Que Quanta 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 Un come la mia papà non, come la sto combinando ragazzi a un, a un 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 a a un a un a un d'éb士 l'éb士 l'éb士 l'éb pull l'éb士 l'ébéd siamo tre ocelli raga scusate come si fa a volare? dammi come faccio a volare? no, devi sbloccare qui e voli tu l'hai sbloccato? no, però volavi come facevi così? a saltare e poi non rimani? no qua ci si chiama la pasta molto vi sei ciao ciao ah è più combinato ma perché voi l'hanno e l'ho fatto uno vabbè raga e poi oggi stiamo là che so pazze no io non sono proprio un esperto a minecraft non ci gioco mai a me non mi piace neanche però a volte è lo sfizio di montare una casa ok 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 Questa è una piccola parte Sto camminando Questa è una piccola parte Basta sotto Poi rientro Ragazzi se volete una parodia ditemelo che io la faccio è sempre così no 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 sbagliato cos'è un cos'è un cos'è un cos'è? mamma sia non è che solo a te tra nomi mamma no mamma no mamma no mamma no mamma no mamma no Dopodiché devo gestire ovviamente. Non mangiare cosa c'è per l'osso. È visto? Domi. Ho fatto anche il tetto, tanto che ora dentro nella mia casetta c'è un bel po' di casino. Un bel po'. Ma non, è troppo piccola. Cioè non c'entra neanche. Vabbè. Cioè dovete questo è vero e c'è tutto caso, è libero ma... E' che sto facendo un'altra setta perchè quella è troppo piccola. Questa è troppo piccola. Così dove lo elimino? Ah, poi un po' di luce. Questa con questa scuola! Ok,ma mi panciata! Per voir la sua scuola. Come si, la sua scuola. Si, la sua scuola. Come si, la sua scuola in casa. Per shore. Sbagliam, chissà se ci va giù, sta da dentro d'accordo e c'era proprio sbagliam Stai estero qui c'è Mi ha toccato lì mamma Ci pensai ma Mi hanno chiesto innamorato Mi ha toccato lì 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 Grazie a tutti. ok, mi sento ti amo un attimo ah, ma io devo prendere ancora una sola parte cioè, ma è troppo piccola all'interno non so, ma è troppo piccola all'interno non so, ma è troppo piccola all'interno ma è troppo piccola all'interno ci monterò una terrazza e uno, scusate ma come si vede quanto sta durando sto bianco bella ah no, devo sollevare le scale bella tre del mattino amore 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 ancora in giro ma po ah, oh oh aspetta un attimo prima di fare la carazza ecco qua 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 che l'ho aperto troppo come via no non sono mia vabbè ciaone guardate che ciaone dentro di me è ancora addobbara eh 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 ah ah raga devo fare un barcone raga non vi voglio ecco qui aspettate so so caduto va oh 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 Perfetto. Perfetto! 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 la terrazza adesso la terrazza ci voglio fare un letto si, so pazzo si, so pazzo si, so pazzo no, qui no, qui no, qui tu hai paura sto giocando mamma mamma mia mamma mia mamma mia ho mamma mia mamma mia che chai hey Ehi, vuoi salire? Ehi, vuoi salire? Tata, la terrazza, aspettate, le giungiamo una cosa a terrazzo. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ragà. Ragà. Oh, tu si comenta. Stai facendo la terrazza? Ti ho fatto una cosa. E poi ho fatto il letto sulla terrazza. Si, per guardare le stelle. Guardate che mi sono belle. Le stelle sono ciechi. Si. Eh, ma come si chiama questo c***o? Non lo so. Come non lo sai? E' inglese. Più tardi. O sennò deve farcela anche più tardi. O sennò deve farcela anche più tardi. Tanti del letto sui. E' inglese. Chiama mamma. E' inglese. E' inglese. E' inglese. ecco un piccolo frigo tu me piace non ci torna non me fanno trova pace mi fa un caro scegata fa sempre tutto pace mi sta guardando eh che si va oh mio mio buccia lì questo come sta piovendo sta piovendo colino colino vado ora è dichiarata che la mia casa è questa no aspettate giriamola è come da giro no c'è un'altra no è come da giro no c'è un'altra c'è un'altra che io bella bionda bella ma stai registrando ancora? no ok questa è la mia oh scusate questa è la ripetendo che devo mettere questo qui ecco ecco questa è la mia casa ripiena di terrazza un attimo ho ripieno di terrazza con un bellissimo letto dietro ragazzi ragazzi questo video finisce qui noi ci vediamo nel prossimo video ciao ciao